Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Ammesse le prove documentali e i testimoni nell'ambito della causa civile intentata dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ha chiesto un risarcimento danni di 200 mila euro per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Presenti in aula davanti al giudice Camilla De Simone, sia D'Alfonso che Pettinari, insieme ad una trentina di attivisti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, il governatore non ha voluto parlare con la stampa ed ha lasciato anzitempo il tribunale di Pescara, il servizio di Francesca Romana Tessi. Ha lasciato l'aula nel pieno svolgimento dell'udienza Luciano D'Alfonso. Questa mattina al tribunale di Pescara si è svolto il secondo capitolo in merito al risarcimento di 200 mila euro chiesto dal presidente della regione al consigliere 5 Stelle, Domenico Pettinari, per diffamazione e lesione dell'immagine in merito al caso della palazzina acquistata dalla regione in via Rigopiano. Un'ora di dibattimento davanti al giudice che ha visto accolte solo parte delle richieste dell'accusa. In ogni caso sono state ammesse le prove per le quali avevamo più attenzione, che sono quelle di ricostruire e di dimostrare la reputazione personale del dottor D'Alfonso e quindi quanto questa possa incidere in un procedimento per diffamazione. Un altro punto importante è stato quello che il virgolettato riportato dai giornali faceva fede a un documento prodotto, su questo invece si è dibattuto, soprattutto per dimostrare qual era la diffamazione. Sì, perché noi riteniamo che non sia stato ritrascritto l'interrogazione del consigliere Pettinari, ma ci siano state delle dichiarazioni e poi il giornale abbia virgolettato il contenuto dell'interrogazione. Dall'altra parte l'avvocato della difesa ha più volte battuto sull'assenza di prove in merito alla dimostrazione del danno subito dal governatore d'Abruzzo e sul fatto che le dichiarazioni riportate dai media fossero solo un estratto di un documento politico, l'interpellanza presentata in consiglio regionale, prodotta in seguito al giudice come prova. Comunque noi siamo tranquilli, ribadiamo comunque che D'Alfonso non ha mai provato nel corso del processo il danno effettivamente subito e quindi adesso si fa riferimento a questa prova testimoniale, ne vedremo l'esito. Un altro punto era quello di chiarire se fosse una persona fisica a risponderne oppure una persona con il suo grado di presidente della regione. Nel caso in cui il giudice decidesse che sussiste la legittimazione attiva, quindi il procedimento è andato così, nel senso che D'Alfonso era legittimato a stare in giudizio. Se dovesse ritenere insussistente la legittimazione attiva il processo cadrebbe. Ammessi tutti gli otto testimoni dell'accusa che saranno ascoltati in due distinte tranche. La prima il prossimo 8 novembre e la successiva il 6 dicembre. Il defibrillatore andava usato, lo ha detto il perito della procura, Cristian Dovidio, nel corso dell'udienza di ieri in tribunale a Pescara per la morte del calciatore del Livorno, Pier Mario Morosini. Paolo Renzetti. Le procedure eseguite sul campo da gioco per soccorrere Morosini hanno evidenziato una condotta attiva volta a salvare la vita del giocatore, ma sono risultate non conformi alle linee guida internazionali con riferimento al mancato utilizzo del defibrillatore che in questi casi è indispensabile. Questa la testimonianza resa dal perito della procura di Pescara, il medico legale Cristian Dovidio, ieri nel corso dell'udienza davanti al tribunale monocratico di Pescara, presieduto dal giudice Laura D'Arcangelo, per la morte del giocatore del Livorno, Pier Mario Morosini, avvenuta il 14 aprile allo stadio adriatico nel corso dell'incontro Pescara-Livorno. Dovidio è stato anche il medico che ha effettuato l'autopsia sul corpo del giocatore toscano. Nel procedimento in corso al tribunale di Pescara sono imputati il medico sociale del Livorno, Manlio Porcellini, il medico del Pescara Ernesto Sabatini e il medico del 118 in servizio quel giorno allo stadio, Vito Molfese. I tre devono rispondere di omicidio colposo relativamente alle operazioni di soccorso, esaminate anche attraverso la visione dei filmati. Dovidio ha evidenziato che il primo ad arrivare dopo 12 secondi dal momento in cui Morosini si accasciò a terra fu il medico del Livorno, Manlio Porcellini, raggiunto pochi attimi dopo dal medico del Pescara Ernesto Sabatini. Le operazioni iniziali sono apparse corrette, ha detto Dovidio. Poi però è stato portato in campo il diffibrillatore, che non è stato utilizzato né sul terreno di gioco né sull'ambulanza. Dovidio ha poi parlato della questione legata alle responsabilità di chi avrebbe dovuto intervenire e assumere il controllo delle operazioni, chiamando in causa il medico del 118, Vito Molfese. Secondo Dovidio era il medico del 118, la persona più qualificata ed esperta che avrebbe dovuto effettuare la rianimazione di un paziente in arresto cardiaco. Una conclusione questa contestata non solo dalla difesa di Molfese, ma anche dal professor Del Caterino. Il tribunale, che punta a concludere la fase istruttoria entro l'estate, ha anche fissato il calendario delle prossime udienze. Si torna in aula il 18, 19, 20 e 22 luglio. Ci spostiamo all'Aquila. Per il PM Mancini sarebbe un imprenditore aquilano il mandante della rapina in villa in cui fu pestato a sangue un dirigente comunale. Giorgio Alessandri. All'epoca il fatto suscitò scalpore e preoccupazione in città. Una rapina in villa con tanto di pestaggio al padrone di casa, davanti gli occhi di mogli e figli, il dirigente comunale Carlo Cafaggi, che riportò ferite e lesioni per una prognosi di sei mesi. All'inizio si pensava ad una banda di malviventi, stranieri, che avevano messo a segno il raid nella villetta di Sant'Elia, ma il timore generale era che la cosa si sarebbe potuta ripetere, o peggio, sarebbe potuta capitare a chiunque. Oggi, a oltre due anni dai fatti e dopo le indagini degli inquirenti e forze di polizia, è emerso che sì, la rapina fu messa a segno da una ganga composta da cittadini rumeni ed albanesi, ma l'obiettivo era nel mirino dei malviventi da tempo e aveva un preciso mandante. Questa è la tesi del pubblico ministero David Mancini, per il quale, come riporta anche il quotidiano Il Messaggero, fu commissionato da un imprenditore aquilano, Walter D'Alessandro, 44 anni, indagato insieme ad altre quattro persone, tre di nazionalità albanese ed un rumeno, tutti tra i 24 e i 35 anni. Dopo aver preso un Rolex, cellulari e bracciali d'oro e diamanti, il dirigente comunale fu picchiato selvaggiamente da malviventi prima di essere imbavagliato insieme al resto dei familiari sotto la minaccia delle pistole. Un pestaggio avvenuto, secondo il sostituto procuratore, perché l'uomo si era rifiutato di indicare dove erano custoditi gli altri oggetti preziosi. Un'azione in pieno stile arancia meccanica, sul quale inizia a farsi chiarezza dopo mesi di dibatti di cittadini e a prensione per un episodio quasi unico nella storia della criminalità del capoluogo. E continuano i controlli da parte dei carabinieri del NAS di Pescara, questa volta nella mensa della scuola elementare Alento di Francavilla al mare. I militari hanno trovato alimenti carenti delle informazioni sulla tracciabilità e grazie agli accertamenti sono risaliti. Al fornitore hanno scoperto che il cibo si trovava in un deposito abusivo in un altro comune del Chietino. Nel magazzino sono stati sottoposti a vincolo sanitario circa 700 kg di alimenti caseari. Il deposito è stato chiuso. Nella mensa della scuola sono state inoltre rilevate lievi carenze di tipo strutturale, non tanto gravi da comportarne la chiusura. Nella mensa inoltre sono stati trovati e sottoposti a vincolo una decina di kg di alimenti carenti delle informazioni sulla tracciabilità, gli accertamenti sui prodotti trovati nell'istituto e sul fornitore hanno permesso di risalire al deposito. La struttura anche questa in cui veniva conservato il cibo destinato alla scuola riforniva oltre alla mensa anche alcuni alimentari del Chietino ed operava nel settore senza registrazione già da diverso tempo. Gli alimenti venivano trasportati con un furgone frigo, anch'esso abusivo. I carabinieri e l'Asla hanno quindi disposto l'immediata chiusura della attività. A Pescara dopo un mese dalla scadenza della vecchia ordinanza anti Schiamazzi la giunta Alessandrini torna con un nuovo provvedimento dopo le proteste dei residenti di Piazza Muzzi. Il servizio. Assessore Cuzzi, nuova ordinanza per Piazza Muzzi dopo un mese di Pax, se così la possiamo chiamare. Avete deciso di tornare con un nuovo provvedimento leggermente anche più restrittivo rispetto a quello precedente? Il provvedimento in realtà è uguale, prevede le stesse misure che tendono dal lato a salvaguardare quelle che sono le attività nuove in quell'area che è stata riqualificata anche alla luce dell'apertura e della riqualificazione del mercato coperto che oggi veste nuovi panni anche di intrattenimento e poi per salvaguardare quella che è la legittima tranquillità dei residenti che hanno diritto al riposo. Noi vogliamo una città che comunque si muove sia dinamica dal punto di vista attrattivo e commerciale ma poi bisogna salvaguardare anche la tranquillità dei residenti per questi motivi abbiamo riproposto l'ordinanza che era scaduta il 31 marzo abbiamo lasciato un mese di pausa per vedere se il fenomeno fosse rientrato in questo mese ci sono stati degli episodi di schiamazzi degli episodi che hanno richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine più di una volta e quindi riproponiamo questo modello che non vuole essere una misura restrittiva nei confronti delle attività commerciali ma sicuramente va a reprimere e educare quelli che sono i fenomeni di schiamazzi che non tengono a che fare nulla con le attività commerciali ma che sono solamente imputabili alla maleducazione di alcuni che escono la sera non per divertirsi ma per fare solamente confusioni e danni questo non è possibile nel centro della città e quindi vogliamo e interverremo in questa maniera per disciplinare attraverso gli orari e per cercare anche di educare coloro i quali vogliono uscire solamente per fare confusione. Da Pescara a Teramo i crediti inesigibili della Team potrebbero essere pagati direttamente dai cittadini nelle bollette della Tari. Questa mattina dibattito acceso in comune nel corso della seduta della Commissione di Controllo e Garanzia. Alfredo Primante Potrebbero essere i cittadini teramani con le loro bollette della spazzatura a pagare 1.300.000 euro di crediti della Team diventati inesigibili dei quali si è discusso nel corso della seduta della settima Commissione Consigliare di Garanzia e Controllo del Comune di Teramo. Un argomento certamente non nuovo tornato d'attualità a seguito della discussione del piano economico e finanziario della Tari e del PEF dai quali quei crediti sono stati esclusi per il vorere dell'amministrazione comunale. Per l'amministratore delegato della Team Luca Ranalli il ricorso alla magistratura per dirimere la querelle tra comune e società partecipata potrebbe essere decisivo al fine di schiarirsi le idee su norme non certo cristalline. Ranalli infine si dice convinto che tutti i documenti necessari certificazioni comprese siano stati prodotti al comune. Ci sono attività normative che si inseguono mese dopo mese. La norma attuale dice che le voci di costo del PEF debbano essere considerati all'interno di queste voci di costo i crediti inesigibili. Il comune ritengo abbia motivato l'esclusione dell'inserimento dei crediti inesigibili sulla base della necessità di avere un ulteriore documento. Bene, siccome questi documenti dicevo non c'è chiarezza quali debbano essere il giudice è il soggetto che dirà se sono dovuti altri documenti e quindi era legittima l'esclusione oppure viceversa se i documenti prodotti dalla Teramo Ambiente con la certificazione di inesigibilità con l'accertamento a campione delle attività effettivamente compiute dalla SOGET sono sufficienti. La somma che la TEM chiede al comune di Teramo si riferisce alle bollette non pagate per le annualità tra il 2007 e il 2009 e come detto potrebbe essere scaricata sugli utenti. Per Gian Guido D'Alberto capogruppo del PD in Consiglio Comunale la questione è tutta politica. Il problema è che va avanti da due anni c'è una norma che impone determinate cose è una norma che secondo noi presenta anche dei dubbi di ragionevolezza perché non si può scaricare sui cittadini virtuosi le responsabilità di cittadini che invece non pagano soprattutto laddove c'è un'evasione colpevole un'evasione derivante da una responsabilità chiara però è una norma con la quale dobbiamo fare i conti e penso, quello che abbiamo detto anche il Consiglio Comunale nell'ultima seduta il tentativo di questa amministrazione è solo quello di impedire di discutere di alcuni argomenti di argomenti scomodi perché altrimenti non supererebbe la crisi politica. La partita resta aperta secondo l'avvocato Cosima Cafforio la suddivisione tra gli utenti di morosità di altri cittadini potrebbe porre un problema di costituzionalità. Cambiamoci, questa norma va sicuramente applicata con ragionevolezza quindi si dovrà vedere con un regolamento che immagino come andare a sparmare le esigibilità in diversi anni perché diversamente si crea un problema a mio avviso proprio di evita fiscale un problema che potrebbe anche essere coinvolgere anche la far sollevare anche questioni di legittimità costituzionale. Con la consegna da parte del sottosegretario Mario Mazzocca degli attestati ai 54 volontari appartenenti a 8 associazioni di volontariato di protezione civile si è concluso oggi all'Aquila il corso di abilitazione all'utilizzo del modulo antincendio boschivo cingolato denominato Elfo 4.0 prodotto da un'azienda teramana. Il corso che si è svolto nella sede del comando regionale del corpo forestale dello Stato si è articolato in lezioni teoriche e pratiche e in esercitazioni sul campo il sistema Elfo 4.0 che è stato consegnato in 4 esemplari ad altre tante associazioni di volontariato abruzzesi trova il suo primo utilizzo nel campo degli incendi boschivi proprio in Abruzzo l'assessore alla protezione civile Mario Mazzocca ha sottolineato la funzione del sistema di contrasto agli incendi boschivi che in Abruzzo rappresenta un comparto molto importante se si considera la vastità del suo territorio coperto da boschi e pinete di immenso valore ambientale naturalistico Elfo 4.0 rappresenta uno strumento che viene in aiuto all'attività umana in quei luoghi più impervi dove l'uomo con le sue sole forze non riesce efficacemente ad operare e cambiamo decisamente argomento presentato a Pescara il libro del presidente di Comunione e Liberazione La bellezza disarmata questo è il titolo presente anche il vicepresidente del CSM Legnini vediamo La bellezza disarmata Don Caronno è questo libro importante viene presentato a Pescara qual è il messaggio che lei vuole lanciare? Il messaggio è molto semplice che la bellezza ha un'attrattiva tale che non ha bisogno di nessun'altra arma che la bellezza stessa per attrarre per fascinare per travolgere la persona per l'attrattiva che ha Una società quella italiana con tanti punti interrogativi è un momento difficile soprattutto per i giovani per i ragazzi guardando al futuro lei cosa si sente di dire? Io vedo nel mio rapporto con tanti ragazzi con tanti universitari come se loro prendono consapevolezza delle ricchette che hanno vedono che trovano delle strade che per noi adulti sono immaginabili vedo che partono all'estero vedo che prendono iniziative l'unica questione è che loro devono credere veramente nelle risorse che hanno Il punto di vista di Don Caron costituisce un aggiornamento profondo della dottrina sociale della Chiesa degli orientamenti della Chiesa dei cattolici dal punto di vista speciale di chi guida questa comunità così estesa in Italia e nel mondo che è Comunione e Liberazione e lo fa per esempio affrontando anche i temi degli effetti della crisi un fortissimo richiamo alla necessità di favorire l'incontro di riscoprire l'io profondo in ciascuno di noi in vista della necessità di attivarsi ciascuno per quello che può per superare questa situazione di grave difficoltà che viviamo Un escursus storico sull'evoluzione delle mafie in Italia questo l'ultimo libro del professor Francesco Benigno ordinario dell'Università di Teramo Vediamo La Malasetta professor Benigno si parla di questo libro si parla di mafia un libro che vuole insegnare e dire cosa in particolare Non si parla solo di mafia si parla di mafia e di camorra si parla della nascita dello Stato italiano e insieme della nascita della criminalità organizzata di questo paese Sono passati tanti anni e il libro prova a spiegare come sono nate e in che contesto si sono formate in quegli stessi anni in cui a Napoli e a Palermo si discuteva di camorra e di mafia in Abruzzo si discuteva di brigantaggio il libro non ne parla ma è un fenomeno consustanziale potrei dire a quelli che ho esaminato Titolo La Malasetta perché? Perché a quell'epoca stiamo parlando del primo ventennio all'indomani dell'unità l'associazione politica era stata lungamente sperimentata in forma settaria la massoneria la carboneria e anche le organizzazioni criminali avevano questo stesso modello assumevano lo stesso modello Secondo lei cosa si deve fare di più probabilmente per combattere questi fenomeni criminosi? evitare discorsi onnicomprensivi che mettono nel nostro sacco cose che sono distinte tra loro imparare a usare le parole in maniera precisa queste parole così generiche mafia camorra servono a delineare un nemico collettivo ma spiegano poco è uno straordinario modernista dell'Università di Teramo che insegna e fa ricerca nell'Università di Teramo e soprattutto ci offre la possibilità anche con la malasetta di rileggere la storia in modo direi estremamente estremamente completo e complesso ci consente di cogliere la complessità della storia e ci consente rileggendo la storia di poter comprendere bene anche i problemi del quotidiano l'amministrazione comunale di Pescara provvederà alla costruzione di una vasca di contenimento delle acque per l'irrigazione delle aiuole della riviera nord vediamo Sessore Di Pietro il comune di Pescara provvederà alla costruzione di una vasca per l'irrigazione delle aiuole del lungomare nord è un'opera alla quale io tengo in modo particolare perché all'agosto scorso quando il sindaco mi ha nominato assessore il primo problema contro il quale mi sono trovata a imbattermi è stato proprio quello delle aiuole secche sul lungomare nord in quell'occasione ho chiesto ai balneatori che si sono dimostrati disponibilissimi di adottare le aiuole e di annaffiarle ogni giorno per evitare che si seccassero adesso grazie a questa delibera approvata in giunta pochi giorni fa realizzeremo una vasca di accumulo che porti l'acqua da Via Gioberti direttamente sulle aiuole della riviera questo perché perché in realtà l'impianto di irrigazione esiste su quelle aiuole solo che è collegato a una vasca che si trova sul primo tratto della riviera quello che va dalla Madonnina alla Rotonda Paolucci e quindi il pompaggio non è in grado di far arrivare l'acqua ad una distanza così ampia e quindi le aiuole si seccano quando partiranno i lavori e quale sarà l'importo di quest'opera allora l'importo dell'opera è 90 mila euro i lavori partiranno ci auguriamo nel minor tempo possibile perché adesso in 15 giorni chiuderemo la procedura per la gara d'appalto diciamo e subito dopo affideremo i lavori ci auguriamo di riuscire a portare a termine l'opera entro metà estate ovvero prima che inizi il periodo di AFA una singolare sfilata di trattori e altre iniziative hanno richiamato migliaia di presenze a San Salvo dove si sono svolti i festeggiamenti in onore del patrono San Vitale il servizio di Fabrizio Occhionero la comunità si riunisce attorno alla figura del santo patrono in migliaia hanno partecipato ai festeggiamenti in onore di San Vitale protettore del comune di San Salvo numerosi gli eventi che hanno coinvolto persone di ogni età per rinnovare la devozione al santo singolare la sfilata dei trattori che hanno raggiunto il sagrato della chiesa di San Giuseppe dove è stata celebrata una messa all'aperto San Salvo era un paese agricolo e per questo hanno donato San Vitale come patrono di San Salvo perché era patrono degli agricoltori di Roma tra le iniziative spicca la preparazione dei taralli di San Vitale che ha richiamato molti volontari se ne impastano circa 15 quintali e hanno una forma di corona e rappresenta la corona del martirio di San Vitale un evento che ha rinnovato importanti valori e un impegno condiviso per la comunità i festeggiamenti per San Vitale sono davvero in questa comunità l'elemento che ci unisce e che ci contraddistingue come comunità di San Vitale e il glorioso santo nostro custode e protettore uno passiamo alla pagina sportiva dopo l'infortunio di Mandragora torna ad attualità in casa Pescara il tema delle alternative in difesa fuori causa fino a fine stagione anche Coda le attenzioni si concentrano sul recupero di Campagnaro ascoltiamo a tal proposito nel servizio le parole del responsabile dello staff sanitario il professor Vincenzo Salini ai microfoni di Enrico Rocchi Campagnaro procede spedito verso il recupero noi contavamo di averlo già con il lanciano probabilmente si è deciso di non rischiare e come appuntamento ci siamo dati la trasferta di Modena sicuramente vorremmo rimetterlo in pista prima dei playoff per far sì che con qualche partita possa avere un pochino di rodaggio per poi essere pronto per i playoff rispettando sempre la privacy molti si chiedono ma cosa ha avuto in più Campagnaro rispetto al problema di cui si sapeva? ma in realtà Campagnaro io penso che le parole più corrette con una battuta le ha espressi il mister dicendo che a quell'età i problemi non nascono nuovi ma si spostano da una parte all'altra lui naturalmente dal punto di vista muscolare è un calciatore estremamente sfruttato e quindi un piccolo problema può diventare un grande problema insomma per questo rush finale potrà farcela giocare anche ogni 3-4 giorni nei playoff beh la nostra speranza è quella dal punto di vista diciamo strumentale va bene dal punto di vista clinico anche questa settimana forzerà noi speriamo di averlo anche perché penso che averlo a disposizione anche a livello di spogliatoio comunque con il suo carisma possa darci una mano insomma per chiudere è stata una stagione ricca di lavoro per il professor Salini per tutto lo staff beh sì quest'anno veramente è stata un'annata particolarmente complessa dal punto di vista degli infortuni in realtà ho sentito anche a volte delle come dire dei malumori da parte dei tifosi però vi posso garantire che sono tutti infortuni assolutamente fortuiti e non c'è nulla di sbagliato nulla di particolare sono quelle annate nelle quali tutto inizia male e finisce storto per fortuna adesso abbiamo la fortuna di averli recuperati quasi tutti per i playoff che è quello che un pochino volevamo assegnati 733 biglietti nel settore ospiti ai tifosi della Virtus Lanciano in vista del derby di domenica intanto la sconfitta di sabato con l'Avellino complica di molto la rincorsa verso la salvezza della squadra di Maragliulo il servizio di Andrea Costantini una sconfitta che ha scompaginato i piani salvezza della Virtus Lanciano già diventati più complicati dopo la stangata della penalizzazione la bella reazione di Cagliari con tanto di pareggio aveva fatto ben presagire in vista della gara di sabato scorso nella quale invece tutto è andato storto il rigore con espulsione di Amenta dopo 11 minuti ha segnato le sorti del match la beffa poi è che nei minuti finali molti calciatori irpini avevano i crampi quelli della Virtus nonostante gli sforzi doppi no e questo aumenta il rammarico perché di fronte la Virtus aveva un Avellino in crisi di risultati ed anche in cerottato una partita che lascia scorie che vanno al di là di risultato e classifica visto lo scontro verbale nell'immediato dopo gara avuto da un drappello di supporters rostoneri con i vertici societari Valentina e Guglielmo Maio tensioni che non facilitano il finale di una stagione che la Virtus aveva saputo sovvertire in positivo dopo la crisi di gennaio ancora una volta Maragliulo dovrà essere bravo a isolare il gruppo da queste dinamiche e tenerlo concentrato su un finale di stagione molto difficile ma la strada verso la salvezza per quanto sia divenuta più tortosa è ancora praticabile in attesa del verdetto della corte federale d'appello la speranza Virtus è di riavere almeno un punto vincendo le ultime tre partite la salvezza sarebbe realtà nell'ipotesi che non venga fatto il pieno la Virtus per sperare non può scendere sotto i sei punti un bottino che aprirebbe a più scenari salvezza diretta o più probabilmente play out pescara all'adriatico ternana e trasferta al Livorno questo è il calendario della Virtus che può anche sperare nelle grandi difficoltà del Latina e nel calendario complicato del Modena il pareggio di Cagliari ha ridato vitalità al Livorno così che la gara dell'ultima giornata all'Ardenza dovrebbe avere un peso specifico notevole sull'epilogo finale domenica intanto c'è il Pescara gara che contiene una componente emotiva in più perché è un derby non ci sarà a Menta squalificato toccherà di nuovo a Rigione da valutare le condizioni di Ferrari uscito anzitempo sabato scorso per un risentimento muscolare sul fronte biglietti riservati 733 tagliande ai tifosi lancianesi all'interno del settore ospiti in caso di ottima prevendita nella riunione del GOS sarà presa in considerazione l'ipotesi di assegnazione dell'intera curva su dai tifosi rossoneri andiamo in Lega Pro il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate l'attaccante dell'Aquila Salvatore San Domenico che domenica scorsa era stato espulso nel corso del primo tempo della partita persa contro la Lucchese si chiude così la stagione dell'attaccante rosso-blu che dovrà saltare l'ultima partita di campionato contro la Lupa Roma e le due partite di play-out fermato per una giornata anche un altro calciatore aquilano Cosentini e vediamo ora le designazioni arbitrali dell'ultima giornata di Lega Pro Ponte Dera Teramo sarà diretta da Riccardo Anna Loro di Collegno Lupa Roma L'Aquila da Diego Provesi di Treviglio tutte le partite si giocheranno in contemporanea domenica prossima alle ore 18 e il club rosso-blu ha deciso di richiamare Perrone ad una sola giornata dalla fine del campionato sarà affiancato da Carlo Susini di S della Salleritana su tempi di Perrone allenatore Gianmarco Menga Senza voler scomodare Dante il suo inferno e il drammatico epilogo del campionato dell'Aquila Calcio si avvicina molto ai terribili gironi della Divina Commedia tanto grave la crisi di risultati dei rosso-blu terzultimi e condannati ai play-out che l'ultima disperata mossa della società è stata quella di richiamare in panchina Carlo Perrone esonerato l'11 aprile per far posto a Giacomo Modica sulla panchina aquilana conti fatti solo per tre partite un ribaltone clamoroso che sa tanto di ultimo tentativo per salvare l'Aquila nel calcio professionistico la scelta della società però evince un colossale errore quello di aver allontanato Perrone a sole quattro gare dalla fine un azzardo costato ai rosso-blu ulteriori tensioni sbandamento tattico e atletico e soprattutto un solo punto in tre gare tanto che ora l'Aquila se dovesse perdere con due reti di scarto contro la lupa Roma domenica prossima nell'ultima giornata della stagione regolare si ritroverebbe addirittura penultima a salvare dal baratro i rosso-blu ci proverà quindi l'allenatore che ha sposato il progetto sin da quest'estate e che ha accettato di tornare sulla panchina lasciata un mese fa in memoria dei genitori sepolti all'Aquila Perrone però ha posto un veto l'approdo al suo fianco di Carlo Susini ex allenatore dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza ma soprattutto direttore sportivo della Salernitana ai tempi di Perrone allenatore l'arrivo di Susini ha però spiazzato i più il motivo l'ex Salernitana andrà a ricoprire il ruolo di consulente di campo e di portavoce della società con gli organi di stampa ma in realtà è un direttore tecnico e dunque l'attuale direttore sportivo Alessandro Battisti che fine farà? Ecco il grande dilemma la sensazione che ci sia molta confusione di ruoli e compiti in seno alla società e la poca chiarezza sta anche in questa mossa di sicuro a fine campionato ci si siederà davanti ad un tavolo per chiarire i ruoli ma al momento si sceglie la via della non belligeranza per puntare dritti tutti uniti all'impresa salvezza ed è tutto per questa seconda edizione l'appuntamento con il TG6 torna le ore 23 prima di chiudere ricordo l'appuntamento di questa sera su TV6 alle 21 Proteramo in studio Jacopo Forcella grazie per l'attenzione buon proseguimento grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione